Intanto per mandarci gli sms 320-8264-861 Pronto Risposto Ciao Simo, che stai a fa? Ma io Oh Simo, so lino Ciao Che stai a fa? Non c'è lino Dormi? No Dormi? Ah, dici a Tutto chi sai? Tutto cazzo Tutto chi sai? Questo cazzo Stai al bagno? No Hai trombato? No Dormi? No Dormi? No No Tutto chi sai? No Hai trombato? Eh, fattene un'altra Fattene un'altra Hai trombato? Ancora, no Ma è Simone? Stai al bagno? Stai al bagno? Sì, io lo vinci in premio Screcciato Dormi? Ecco qua Dopo lo scratch Vanno fuori di testa E lo richiamiamo Piano 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 Perché qua Vi devo dire una cosa Ascoltatori Questo Simone Amico di Marco La mamma di Simone Si occupa Del commerciale Di Radio Radio Praticamente Quando lo verrà a sapere Va Sarà ricattabilissimo Simone Da questo momento in poi Lo richiamiamo Vai Forse ha staccato il telefono? Ecco Squilla Pronto Che ti sei giocato Manzotin? Cambiamento Oddio D'angosso Si, tre chili di trip E due di butello Con quel nome Giusto il macellaro Potevi fare Allora Che ti sei giocato? Roba De registrazioni Te voglio bene Te voglio aiutare Te voglio dare un cavallo buono Ma una ragata? Gioca dei paganini Quello che c'ha qua La macchia bianca La macchia bianca sulla fronte Luigi C'è una leggera risata Secondo me Ci arriva piano piano A lui Ma che stai a dormire A quest'ora? Non è Luigi È Simone Pronto? Qui le poste C'è un pacco per lei Non vedi? Lo deve venire a ritirare subito Che c'è roba che va male Secondo me non c'è arrivato Che è Radio Radio Dove lavora la mamma Tra l'altro Pronto? Casa la terza? Sì Metti la quarta e batta Nella fanturia Però era preparato Sono il cavagliella Monica Che pelle Sono il cavagliella Monica Che pelle Vedi all'inizio era incazzato La centralinista Subito dal capo servizio Ti ha detto? Ti ha detto? Ti ha detto una cosa? Ah se ci abbiamo i minuti gratis Sì sì Pronto parlo col servizio Per conibili da strade? Sì Ah buongiorno Senti io sono un socio Asci Numero di destra 91 76 55 Barra uti Come utile Torino No aspetta Glielo dobbiamo dire Aspetta aspetta Glielo diciamo? Ciao Simo Che sta a fa? Adesso rifletti Simone Simone? Chi è? Sti gatti Simone Praticamente Siamo in diretta Simone Eh Chi è? Eh Eh Questo Emilio Giordani Questo Che significa? Simone Ma chi è? Che gatto Sei sulla radio Dove l'ora tua Sei sulla radio Dove l'ora tua mappa Attenzione Sta ancora dormendo Secondo me No Sei dormendo Sei rasvegliato Rideva Simone Stai dormendo? Ma che sta dormendo? Fa cercare dei capi Ma fai ancora Le No Queste cose non le fai Non credo Fai ancora I testa coda Con le macchine? Ma No No Ci rinuncio Ci rinuncio a cosa? Ci rinuncio E' questa cosa Eh fai di questa cosa Hai rinunciato quindi Ma Per credere Vuoi andare Ad accendere Radio radio O ci credi Che sei in diretta? No no Ci credo Mi fido Ah ok Vai svegliando Mi fido Mi fido Mi fido Oh Che stai a fare? E' come prima Dormi Ti sei divertito dai Carino Ma Sì Ma questo Ma che sai Che ha detto? Eh che hai detto? Ma stavo a vedere un film Samarkirbis Un film porno Ti stai guardando? Con gli occhi chiusi Lo stavo vedendo Ovvio Film porno Ovvio Vabbè domani Facciamo sentire tutto Alla rossa Va bene? Sì Va bene Sì Grande Simone Ti facciamo fare l'applauso Da due i tuoi amici Solo due Vai Applauso a Simone Ma chi è? Come chi è? Marco Alino Lino No che Lino Alino ed Erdose Non so se Mauro Mauro Erdose Dai è radio radio Grande Simone Alla grande Grazie Conosci una Ecco Grazie Simone